Il cortodromo ha avuto una vita breve perché si è fatto soltanto per due anni. Poi il cortodromo ha girato il circondario, Roborotordo, Ceglie, Serba di Fasano. A Fasano non era mai stato realizzato per una serie di modi. Quindi per noi è molto importante essere qui stasera proprio a Fasano, sia come amici, come persone, che come cantina delle idee. E' nulla. Adesso continuiamo le proiezioni. Abbiamo due corti italiani e due stranieri. Alla fine dell'ultimo cortometraggio del quarto abbiamo in sala Ernest Di Sabia, che è un regista valese, con il quale poi ci faremo una chiacchierata. Quindi vi prego di rimanere. Buona serata. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti